Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale Iniziamo una nuova serie, anzi la mia primissima serie su PS4 Come avete visto la mia serie precedente è stata su un telefono Android Quindi la qualità non era il massimo Infatti io ho detto se non piace a me, non piace a molti E quindi ho iniziato a farli da PS4 Life is Strange Before the Storm a tema della prima Che era il primo Life is Strange Questo è il prequel Quindi iniziamo ragazzi Attivate la campanellina, iscrivetevi sul canale Per non perdervi i prossimi aggiornamenti Supportatemi con mi piace, commenti e condivisioni E fatemi sapere che ne pensate Iniziamo Allora, il primo episodio A breve avrò anche una webcam così posso anche mostrarmi Piano piano mi sto procurando il tutto Allora, questa è Chloe Si Allora, questa è la mia Allora, questa è la mia La mamma mi ucciderebbe se mi sapevo che ero qui. Ma va, la vetta adesso per spostare la telecamera. No trespassing? No way! No, no, no. Oh, holy shit! This place is awesome. If I'm gonna get inside, I'll have to get through that door. If I owed somebody a thousand dollars, I'd be shitting my pants. You're always blaming everyone else but yourself. Those guys need to get a room. Or not. Oh. Damn. Mind your own business. I understand, I understand really. And it won't ever happen. Ma questo è il camper di Frank. Per chi ha visto il prima, lo sa chi è Frank. Sì, questo è sicuramente il camper di Frank. Perfetto per me per lavorare. Ah, qui possiamo fare i graffiti. Con un pennarello. Caramelle Brades. Ehi, kids! Hey kids! Free candy. No, non c'è sia la caramelle. Heppre kilogonos. This place has collected a lot of junk over the years. I'd join a motorcycle gang if I had him in France. Mom would totally flip her shit if she knew I hiked for an hour just to see a show. This place is sketchy as hell. An old, abandoned building in the middle of nowhere, miles from home. Home. Right. Now, I remember when I am here. Any place is better than home. Basta dai. Basta dai. Basta dai. Help you, miss? You gotta let me in. Check it. I'm totally legit. It's not a bad fake, kid. But you're in over your head here. Do yourself a favor and scram. Can't let him push me around. Should I go back and stand up to him? Or can something around here help me convince him? Nothing says badass like a nice floral brim. You've blocked a new dialogue. Good. An old lumber car. I guess it's been years since anyone's actually worked here. Non mi sembra che questo dialogo si è bloccato qui. La tua moto. Ho sentito che Firewalk è giocato qui oggi. Sono eccezionali. Niente. Scusate? Probabilmente dovresti andare. Fammi entrare. Ha iniziato una sfida di insolenza. Qui c'è un'altra cosa. Penso al posto del riavvolgimento del tempo ci hanno messo questo. Durante queste sfide ricorri a pretesti e insulti per convincere qualcuno a fare quello che vuoi. Ah, devo vincere la discussione. Per vincere la discussione presta attenzione alle parole dell'avversario. Quindi, in questo caso, Anna. Ehm, la tua nanna. Ah, non è non l'avversario? Real cute. Brasto. Carina. Presta attenzione alle parole del tuo avversario. Carina e cute. Le risposte corrette non sono sempre facili da individuare. In questo caso, il parco giochi può essere usato per rispondere attorno alla ragazzina. Certo. Ah, ok. Chicole e forte. Perché questo posto sembra un giro per me. Una ragazza come te, non posso proteggere la tua. Certo. Una ragazza come te, con bellissime, bellezza sulle bicicletta, non potremmo mi a leggere di cosa che posso fare. Bello. Certo. Certo. Ah, a mell'avversario... No... A mell'avversario si pensa che parteci, ok? Ok. E' la mell'avversario? Certo a mamma. Certo che vivi nel mell'avversario del tuo boss? Certo. Non lo gestione, ma non lo gestione. Certo? Certo. E' la mell'avversario? Certo. No problem. A gun? Non care. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still kick your ass. I'll give up. You're alright, kid. Go on. Bella questa cosa che hanno fatto con le discussioni. Just follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash. I've got it, son. What's her name? Delia. She doesn't usually like people. Yeah. Me neither. Quindi vanno d'acconto. Sober up, girl. You're missing the show. Look, we have to set this up in a sack. Hey, are you selling any bucks? What? 20 bucks for a t-shirt. That's really expensive. Dick. No, 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 no. Look, we have to set this up exactly as I've explained it to you. All right, kid. It's not going to take any more than the power to do. Freno a mano. Sento io e si freno a mano. Looks like that parking brake is the only thing keeping that car from rolling down the ramp. No, 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 no. Look, we have to set this up in a sack. As I've explained it to you. All right, lady. It's not going to take any more than an hour to do it. If you don't have 20 bucks, beat it. Still a dick. No, 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 no. Look, we have to set this up in a sack, as I've explained it to you. Yet. All right, it's not going to take any more than an hour to do it. I don't know. I don't know. Well, we know it's going to take a few minutes, right? Well, you know it's not going to take a few minutes. Hey, Frank! Hey! 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 A little bit. Stai cercando molto, cosa stai facendo qui? Sono qui per vedere i firewalki, ragazzi! Sono rockati! Come si senti proprio questo piccolo shimmy digge? Ha, l'internet! Come altro? Sì, ragazzi? Ok, quindi stai guardando? Sì, sicuramente potremmo usare qualcosa per farlo. Sì, ovviamente! As soon as you give me the 175 bucks you owe me! Shit! Do I really owe him that much? Unless I find some quick cash around here, I can kiss my high goodbye! How about you spot me some? You know I'm good for it? No way! I learned my lesson last time. Money first. Never mind, Ben. Suit yourself. Reminds me of the way I make important life choices. Oggio Malefico. What are you looking at? This would be an Oggio Malefico. What are you looking at? 300 dock workers laid off, their pensions cancel? God, Prescott's a real good tool. Sì, ma io volevo la maglietta però. Ah, ecco. Ora è apparsa. Poco fa non era apparsa. Io non c'entro nulla. E non mi prendo la maglietta. Sì, buona giusta. Cosa? Sì, è tipo 200 euro. Ah, le posso dare a Frank? Ehm... Ah, io faccio seconda del suo carattere. Non seconda del mio. Cosa? 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 Cosa... Cosa? sc który I'm really glad you're proof. I'll see you later. Whatever. Here we go. Here we go. Hey, you okay? I'm fine. Relax. You bumped into me, remember? I'm a no-spin. Yup. My bad, dude. You don't know who I am, dude. No. Nope. Don't care either. I'm a no-spin. Hey, let me know how that works out for you, bitch. Alright, mosh pit is a no-go. Fine. Maybe I can get a better view of the action from the map above. Ah, quindi non mi hanno fatto entrare. Qua non si può salire. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.